Amici carissimi ben ritrovati con Auto Occasioni, oggi i nostri preziosi consigli sulle quattro ruote arrivano direttamente da Via Susa 52 a Pianezza. Avete riconosciuto l'indirizzo? E' senza dubbio quello di Queen Car, concessionaria San Yong Ben 8 brand, automobilistici in 8000 metri quadrati di esposizione, dove è impossibile non trovare l'auto dei vostri sogni con le grandi opportunità, sconti fino al 40% sulle chilometri zero e grande novità assoluta per la puntata di oggi e la nuova nata di casa San Yong. Parliamo dell'Urban Crossover, l'XLV presente e disponibile da Queen Car nel grande sede di Via Susa 52 a Pianezza. Io sono naturalmente in compagnia di Fabrizio Mussino e Massimiliano Migliaccio che ci accompagneranno nel viaggio della puntata di Queen Car. Ciao Palma, ciao a tutti, puntata straordinaria perché presentiamo il nuovo XLV, quindi vi aspetto a venirlo a provare. Attenzione perché è un'autovettura con un bagagliaio enorme, un crossover a prezzo quasi di un'utilitaria, si parte da 16.400 euro. Benissimo, Queen Car pensa proprio a tutto e oltre a farvi risparmiare assolutamente sugli acquisti, vi offre un pacchetto completo anche con l'assistenza e pensa alle vostre vacanze. Potete viaggiare a bordo della vostra nuova auto senza versare un euro d'anticipo. Ciao Massimiliano. Ciao a tutti, ben ritrovati, ricordiamo Queen Car, mese eccezionale perché prendete la vostra autovettura, andate in vacanza senza dare un euro. Con assicurazione addirittura per sette anni, furti incendio e la manutenzione addirittura per cinque anni. Bene, direi di passare ai fatti, è giunto il momento di andare a gustare insieme la scaletta firmata Queen Car, state con noi. Presentiamo il nuovo Mitsubishi SX1006 in forma Euro 6, attenzione al prezzo a chilometro zero a partire da 15.900 euro. Avete un'autovettura da rottamare? Bene, alla Queen Car può essere valutata fino a 5.000 euro il nuovo Mitsubishi SX in form 115 cavalli, attenzione al prezzo a chilometro zero con rottamazione 17.900 euro. Mitsubishi Outrunner 2002 turbodiesel in style, sette posti full opsona, attenzione al prezzo 8.000 euro. Di sconto rottamazione può essere vostro a partire da 27.990 euro. Alla Queen Car L200 in pronta consegna, cosa vuol dire? In tre giorni vi consegniamo l'autovettura, l'L200 Club Cab, attenzione al prezzo, 18.900 euro più IVA. Presentiamo la nuova Mitsubishi Space Star 1025 chilometri con litro di benzina, chilometro zero 8.900 euro. Ultimo pezzo, Mitsubishi SX, benzina e GPL, non pagate il bollo, full opsona, attenzione al prezzo 20.900 euro. Abbiamo più di 70 Tivoli in pronta consegna, guardate quanti colori, quanti allestimenti, Tivoli 1.6 GO, benzina a chilometro zero, 14.990 euro. Abbiamo anche benzina e GPL con l'esenzione bollo, 1.6 turbodiesel, 115 cavalli, attenzione al prezzo a soli 16.990 euro a chilometro zero. Cerchi da 18, tetto bicolore, parliamo della Tivoli B, visual pack, full opsona, a chilometro zero, guardate quante autovetture, a soli 19.990 euro. 5.000 euro di sconto all'ottamazione, parliamo della Tivoli B, hot pack, pelle rossa, cerchi da 18, navigatore full opsona, 20.900 euro. Guardate quanto è grosso questo bagagliaio, ci sto anch'io dentro, posso anche dormirci, l'XLV 1.6 benzina a turbodiesel GPL a partire da 16.400 euro. Nuova Siong, XLV 1.6 benzina e GPL con l'esenzione bollo, 1.6 turbodiesel da 115 cavalli, attenzione al prezzo a partire da 18.400 euro. XLV Limited Edition, full ops, navigatore, pelle, attenzione al prezzo, 21.990 euro. Non pagate il bollo, nuovo corando, benzina e GPL, attenzione al prezzo a chilometro zero, un fuoristrada da soli 17.900 euro. Cerchi da 18, climatizzatore automatico, full opsona, corando, limit edition, benzina e GPL, esenzione bollo, attenzione al prezzo, 19.990 euro. Siong, Rexton, chilometro zero, attenzione al prezzo, oltre 32.000 euro di listino a soli 25.900 euro. Accio Sport, pick up, autocarro, deducibile fiscalmente fino al 140%, a soli 14.900 euro più IVA. Come avete capito, alla Queen Car non mancano i chilometri zero per farvi risparmiare. Esempi, in Toyota, iGo, 1000 benzina a partire da 9.900 euro, full ops, continuiamo con la Toyota Yaris, full ops anche questa, con cerchi lega a partire da 10.900 euro in 1000 benzina. Sempre chilometro zero anche in casa Nissan, partiamo dalla Micra utilitaria, 1200 benzina a partire da 8.900 euro. Passiamo al piccolo monovolume Nissan Note GPL per farvi risparmiare, a 11.900 euro, sempre a chilometro zero. Introvabili chilometri zero anche sul Nissan Qashqai a partire da 20.900 euro. E abbiamo ancora alcune vetture a GPL e diesel del Nissan Juke con risparmio fino a 5.000 euro a partire da 16.900. Passiamo alla gamma Renault, qui abbiamo sia la vendita che assistenza, sempre offerte a chilometri zero. Per esempio, Clio, 1200 benzina a partire da 9.900 euro, sempre a chilometro zero. Passiamo alla Megane, sempre a chilometro zero da 13.900 euro. Passiamo sempre alla bellissima Captur, full ops, 1500 turbodiesel, risparmio fino a 6.000 euro a 19.900 euro. Le ultime a chilometro zero, introvabili, la Cajar, 1500 diesel, attenzione al prezzo a partire da 19.900 euro. Passiamo alla casa Kia, operazione Queen Car, 7 anni di garanzia, 7 anni di assicurazione, super rottamazione a 9.900 euro in 1.200 benzina. Sempre in Kia, partiamo in vacanza con macchine spaziosi, la Venga, 1.400 benzina, GPL, diesel, attenzione al prezzo, 11.900 euro, sempre risparmio. Sempre in Kia, la Sportage, introvabile, full ops, attenzione al prezzo, 19.900 euro. Alla Queen Car posso uscire nell'autovettura dove posso risparmiare di più, esempio Hyundai, i10, 1.000 benzina, a partire da 8.250, attenzione, la Hyundai i20, 1.200 benzina a 9.900 euro, già comprese il clima, radio, servosterzo e airbag. Solo risparmio alla Queen Car Hyundai X20, risparmio 5.000 euro per la rottamazione, a partire da 11.900 euro in 1.400 benzina, disponibili diesel e GPL. Vai in vacanza con una bellissima vettura senza dare niente, inizia a pagare a settembre, la Hyundai Tucson 1.700 turbo diesel a partire da 20.900 euro. Vieni alla Queen Car in via Susa 52 a Pianezza a scegliere il tuo chilometro zero dove risparmi, esempio Fiat Panda 1.200 benzina a partire da 7.800 euro. Passiamo alla gamma Dacia, Duster 1.600 benzina a partire da 11.900, tantissimi chilometri a zero anche sulla Sandero e Sandero Stepway. Come potete vedere tantissimo usato garantito per 12 mesi, per andare in vacanza, vettura garantita, tagliandata e totalmente finanziata. Vi ricordiamo alla Queen Car trovate i SUV, le utilitarie, i monovolumi, gli station d'occasione, solo alla Queen Car finanziato e garantito. Come sempre una breve rassegna per rappresentare una grande azienda con 8.000 metri quadrati a disposizione e tantissime vetture in pronta consegna. È un mese dedicato all'estate e con l'operazione Queen Car il risparmio raddoppia. Non perdete l'occasione di acquistare con il 40% di sconto le chilometri zero ma anche di venire a provare il 25-26 giugno la nuova XLV. L'Urban Crossover, ultimo gioiellino di casa St. Young. Sì, vi aspetto qui a Pianezza e via Susa 52 a provare la nuova XLV e soprattutto a provare i chilometri zero con sconti fino al 40%. E se trovate un prezzo più basso del mio venite personalmente da me e io vi faccio risparmiare perché Queen Car è sinonimo di risparmio. Certo, la parola d'ordine è senza dubbio il risparmio da Queen Car, non solo sulla vendita ma anche sull'assistenza qui in sede. Quindi portate le vostre vetture prima di partire in vacanza ma se avete bisogno dell'auto nuova potete ritirarla senza un euro d'anticipo. E solo per questo mese vi ricordo che alla Queen Car prendi l'autovettura, vai in vacanza e inizia a pagare da settembre con sette anni di assicurazione, furti, incendio e manutenzione inclusa. E questo è anche il mese del tagliando, vi ricordiamo, tagliando a partire da 128 euro. L'operazione Queen Car per l'estate sicuramente vi darà grandi soddisfazioni, vi farà risparmiare sui vostri prossimi acquisti. Sì, quindi non esitate, passate numerosi in via Susa 52 a pienezza, soprattutto il 25 e il 26 giugno siete tutti invitati ad ammirare, a provare, ad acquistare la nuova XLV di Casa San Jong. Io ringrazio Fabrizio e Massimiliano per l'ospitalità e tutto il team Queen Car naturalmente, ringrazio voi per averci seguito e continuate a seguire Auto Occasioni anche sul nostro sito Motori TV dove troverete la nostra nuova rivista online appunto di Auto Occasioni. Alla prossima!